allora adesso vediamo alcuni circuiti che usano un numero maggiore di transistori che svolgono in realtà funzioni logiche abbastanza semplici però come vedrete anche per funzioni logiche relativamente semplici c'è bisogno di un numero di transistori tutto sommato elevato allora vediamo il primo di questi esempi è decoder decoder è un circuito base e letteralmente aspettate fatemi rispondere qui se no mi chiede in continuazione decoder sta letteralmente per decodificatore ed è un circuito che ha n ingressi più una variabile di controllo che si chiama strobe di solito si indica con la lettera s e a l uscite quindi diciamo dal punto di vista dello schema ad alto livello per noi è una scatola d'accordo con n ingressi vi chiamiamo da a0 ad a n-1 questi sono collettivamente n l uscite da y 0 a y l-1 e poi una variabile di controllo che è lo strobe qual è il funzionamento descritto in linguaggio naturale ed è questo aspettate fatemi vedere se funziona se no questa mi sembra una rete che è stata tolta in linguaggio naturale lo spieghiamo così dunque se s è uguale a 1 una sola uscita è attiva e poi spieghiamo che cosa vuol dire attiva per ogni combinazione degli ingressi se s è uguale a 0 nessuna uscita è attiva quindi in pratica la variabile di controllo lo strobe funziona come un enable un abilitatore in pratica nessuna uscita può essere attiva se lo strobe non è alto se lo strobe è alto c'è un'uscita attiva per ogni combinazione degli ingressi che cosa vuol dire qual è il meccanismo di funzionamento del decoder in pratica riconosce una combinazione degli ingressi ogni uscita riconosce o meglio ogni uscita riconosce una combinazione degli ingressi se attiva l'uscita 1 l'uscita y 0 vuol dire che è stata riconosciuta una certa configurazione degli ingressi se attiva l'uscita y 1 vuol dire che è stata riconosciuta un'altra combinazione degli ingressi si attiva Y2, è stata riconosciuta una terza combinazione degli ingressi. In questo caso fa da decoder. Se noi attribuiamo un significato a un certo numero di combinazioni degli ingressi L, per esempio, siamo in grado di riconoscerle tutte d'L, perché per ogni combinazione degli ingressi, tra quelle che devono essere riconosciute, si attiva l'uscita corrispondente. In questo senso decodifica la combinazione degli ingressi. E qui vorrei elevarmi di mezzo questo, ma non so come fare. Riprovo l'ultima volta. Secondo me questa rete qui è stata eliminata e lui continua a cercarla. Aspettate, facciamo una cosa. Che se no questo ci distrugge. Va bene, vediamo un esempio. Poniamo due ingressi e quattro uscite. Esempio. N uguale a 2. L uguale a 4. Possiamo riconoscere un numero binario su due cifre. Per esempio, possiamo dire, va bene, i due ingressi sono A0 e A1. Questo è lo strobe. E le uscite sono L0, L1, L2 e L4. Come potete capire, si tratta di una rete combinatoria, perché non deve essere un circuito che ha memoria. In pratica, vedete, se questo è A0 e A1 e questo è lo strobe, ho complessivamente 8 configurazioni possibili. 8 configurazioni possibili e poi L0, L1, L2, L3. Supponiamo di voler riconoscere il numero binario. Quindi, quando lo strobe è alto, la configurazione viene riconosciuta. Per esempio, se metto 00, anzi facciamo così, per comodità di lettura, mettiamo qui A1 e qui A0. Quando inserisco 00, viene riconosciuto lo 0 e quindi l'uscita L0 magari si attiva. Supponiamo, ecco, prima avevo messo attivo tra parentesi. Quindi, supponiamo che in questo esempio, devo definire anche cosa vuol dire attivo. Supponiamo che in questo esempio attivo voglia dire 1. Quindi non attivo vuol dire 0. Potrei definirlo al contrario. Allora, quindi questo è un 1 e tutti gli altri sono 0. Se invece l'ingresso è 0,1, supponiamo che si riconosca l'1 in decimale e quindi si attivi soltanto l'uscita 1. Se l'ingresso è 1,0, si riconosca il 2. Se l'ingresso è 1,1, si riconosca il 3. Quindi questa è la tabella di verità. Ciascuna uscita è in funzione degli ingressi. E poi se invece lo strobe è 0, qualunque sia la configurazione degli ingressi, tutte le uscite sono non attive. Quindi questa è la tabella di verità e si può implementare ovviamente con una porta logica complessa. Perché insomma si capisce, è una rete combinatoria. Questo è un meccanismo che funziona in generale anche se voglio riconoscere. Per esempio se volessi riconoscere un numero decimale scritto in binario, chiaramente per una cifra decimale in binario avrei bisogno di 4 bit e quindi potrei fare da N4 a L10 riconoscere ciascuna cifra decimale. Questo è un classico decoder che per esempio viene adoperato nei display. In generale nei display quelli meccanici, ovviamente quelli che sono alle stazioni o nei vecchi svegli anni 70 dove c'è questo pannello che gira. Chiaramente vengono inviati 4 bit in ingresso, i 4 bit codificano una cifra decimale, c'è un decoder che decide qual è l'uscita giusta, quindi qual è la cifra decimale che viene riconosciuta e all'uscita corrisponde una posizione di quei pannelli che ruotano. E quindi vedete la cifra corrispondente. Nelle vecchie calcolatrici anni 70 i display erano fatti in pratica con per ogni cifra decimale c'erano 10 filamenti. C'era un filamento, quei filamenti che facevano con quella luce rossa, insomma l'avete visto probabilmente in qualche vecchia foto, anche in qualche vecchio film si vede. Praticamente c'erano 10 filamenti, c'è il filamento fatto a forma di 0, il filamento fatto a forma di 1, il filamento fatto a forma di 2 e quello fatto a forma di 9, insomma fino in fondo. A seconda della cifra che si mandava, della configurazione dei bit che si mandava in ingresso, c'era un decoder che riconosceva un'uscita valida, attivava solo quella e accendeva il filamento corrispondente. Quindi vedevate soltanto il filamento della cifra corrispondente. Ok? Quindi diciamo, quelli sono esempi semplici, un po' vecchiotti di uso di decoder, poi chiaramente ci sono tanti altri contesti in cui si usano. Come si riescono a fare? Beh, un modo semplice di fare questo decoder, per esempio, è quello di usare un piano di NAND, per esempio in questo modo. Vediamo un po'. Io che cosa faccio? Prendo SA1 e A0, A1 e A0 li porto così come sono e negati, e poi metto una porta AND fatta con un NAND e un inverter in cascata per ogni uscita. Per esempio, se voglio riconoscere, perché metto una porta AND? Perché una porta NAND, vi ricordate com'è fatta, ha un'uscita 0 soltanto per una certa configurazione degli ingressi, che c'è per tutti 0, no, per tutti 1, scusate, altrimenti l'uscita è sempre 1. Quindi in pratica che cosa fa la NAND? Riconosce una configurazione degli ingressi di tutti 1. Allora, in questo caso, basta scegliere opportunamente cosa si manda all'ingresso per ottenere quello che si vuole. Perché Y0 cosa deve fare? Deve essere 1 soltanto in un caso quando s è uguale a 1, A1 è uguale a 0 e A0 è uguale a 0. Questo è l'unico caso in cui Y0 deve essere uguale a 1. Quindi, a questo punto, cosa vuol dire? Porto in ingresso alla NAND, la NAND è 0 solo in un caso, quindi Y0 è 1 soltanto in quel caso in cui la NAND è uguale a 0. Quindi deve essere s uguale a 1, A1 uguale a 0, quindi porto in ingresso la NAND A1 negato che è 1 quando A1 è uguale a 0 e A0 negato. Quindi vedete, all'ingresso della NAND ho tutti 1 soltanto quando s è uguale a 1, A1 è uguale a 0, A0 è uguale a 0. Va bene? In quel caso l'ingresso della NAND ha tutti 1, l'uscita è 0 e quindi Y0 è uguale a 1. E poi analogamente faccio per tutti gli altri casi. Quindi per riconoscere 1 cosa devo avere? S uguale a 1, Y1, A1 deve essere uguale a 0, quindi lo prendo qui, ma A0 deve essere uguale a 1 e quindi lo collego così. Poi per riconoscere invece Y2 devo mettere S uguale a 0, S uguale a 1, scusate, A1 deve essere uguale a 1 in quel caso, A0 deve essere uguale a 0, quindi metto in ingresso A0 negato. Per finire, ultimo pezzettino, Y3 riconosce A1 uguale a 1 e A0 è uguale a 1. Quindi è fatto così. D'accordo? Quindi uscita attiva alta in questo modo. Se avessi avuto l'uscita attiva bassa sarebbe cambiato ben poco, avrei dovuto semplicemente togliere tutta la fila di inverter in fondo perché l'uscita attiva bassa mi viene naturalmente con la NAND. La NAND ha l'uscita bassa soltanto per una configurazione di ingresso. In generale, tutte le volte che bisogna riconosce una particolare configurazione si usa una NAND. Si potrebbe usare anche una NAND ma insomma la NAND come sapete viene più facile. Si potrebbe usare anche una NOR ma come vi ho detto tante volte la NAND si usa preferibilmente perché in tecnologia CMOS viene più piccola. Va bene? Quindi vedete a questo punto per un'operazione abbastanza semplice tutto sommato abbiamo dovuto utilizzare un numero abbastanza elevato di transistori. Vedete che abbiamo qua in questo caso bisogno di 6 inverter per tutti gli ingressi e per tutte le uscite e di un numero di porte NAND pari al numero delle uscite con un numero di ingressi per ciascuna porta pari al numero di ingressi più lo strobo. Va bene? Allora generalizziamo un attimo perché in questo caso il numero di transistor lo possiamo calcolare e vediamolo un pochino numero di transistor dobbiamo avere abbiamo detto ci sono un numero di inverter pari al numero di ingressi più il numero delle uscite quindi due volte il prodotto di L più N va bene? perché ogni inverter ha due transistori quindi questi sono gli inverter inverter più abbiamo le uscite sono L quindi L porte NAND a N più 1 ingressi una porta N più 1 ingressi ha due per N più 1 transistori quindi questa è l'espressione ok? quindi questo mi dice L NAND a N più 1 ingressi questa è l'espressione complessiva nel nostro caso nel nostro caso L è uguale a 2 e N uguale a 1 N uguale a 4 quindi il numero di transistori è uguale a quanto? Devo fare 2 per 6 12 più 2 per 2 4 più per 5 20 quindi 12 più 20 ho detto bene? 12 più qui sono 5 per 4 20 12 più 20 fa 32 va bene? se per esempio tanto per fare un esempio nel caso che vi raccontavo prima nel caso N uguale a no ho sbagliato io L era uguale a 4 N uguale a 2 giusto? si aspettato ho sbagliato ho sbagliato anche il prodotto allora il nostro caso è L uguale a 4 N uguale a 2 quindi questo fa 12 ma no questo fa di più perché adesso 4 per 2 è 8 per 3 24 più 12 36 ok? nel caso che vi raccontavo prima N uguale a 4 per esempio per decodificare una singola cifra quindi 4 bit per una cifra da 0 a 9 e 10 uscite perché 10 cifre sono decimali cioè 0 a 9 se adopero la stessa espressione quanto mi viene facciamo un attimo il conto mi viene qua L più 4 L più N fa 14 per 2 28 quindi devo fare 28 più e qui c'ho L per 2 20 più per 500 ok? quindi fa 128 ok? quindi vedete il numero sale molto rapidamente mi servono 128 transistori soltanto per decodificare una cifra decimale questo è il motivo per cui in come dire in elettronica digitale si fa presto a salire col numero di transistori perché poi è anche un'operazione dal punto di vista funzionale semplice come giusto ottenere una convertire una cifra in decimale richiede un certo numero di transistori ok? quindi immaginate soltanto quando vi raccontavo che il primo circuito integrato ha bisogno di circa 2000 transistori solo per fare una calcolatrice no? però pensateci che se avete 8 cifre in una calcolatrice da mandare in uscita per ciascuna delle 8 cifre vi serve un decode per il display solo per pilotare il display per ciascuna degli 8 cifre del display vi serve un decode di questo tipo 8x128 fa già un migliaio di transistori soltanto per pilotare un display a 8 cifre quindi si fa presto a salire col numero di transistori necessari e questo è il motivo per cui in logica digitale si arriva a numeri molto elevati va bene allora vediamo un altro di questi circuiti qua questi sono circuiti tipicamente che si chiamano a media scala di integrazione vediamo un attimo la classificazione perché così vi rendete conto vedete siamo passati da pochi transistori a un centinaio facilmente e c'è storicamente una classificazione dei circuiti integrati in base in base al numero dei transistori tenete presente che un convertitore come quello se lo facciamo integrato è piccolo effettivamente ma se va fatto su una scheda con gli elementi discreti per la logica viene una cosa abbastanza ingombrante quindi quando come dire si racconta che vedete le foto dei calcolatori di prima generazione che occupavano intere stanze potete immaginare che poi per farlo mettendo dei singoli transistori o delle singole valvole decode che abbiamo visto prima ci bisogna una scheda grande quindi poi alla fine si fa presto riempire una stanza intera per una funzionalità di calcolo non proprio minima allora storicamente se luca vi indico qua l'ordine di grandezza dei transistori semplicemente l'ordine di grandezza è importante e poi il nome che vi è dato tipicamente con 10 transistori questa è la taglia della singola porta logica e si parla si parlava di small scale of integration small scale of integration quando n ha ordine 10 alla 2 si parla di medium scale of integration quindi per esempio il decoder che abbiamo visto prima sarebbe una medium scale of integration scala di integrazione media no questa non la posso prendere dunque faccio l'integrazione me dunque con 10 alla terza abbiamo una large scale of integration e con n 10 alla quarta 10 alla 8 abbiamo quella che si chiama very large scale of integration ed è probabilmente questo VLSI è il nome più che è passato di più diciamo anche nella comunicazione nella stampa il very large scale of integration occupa un'ampia dimensione diversi ordini di grandezza e sono gli ordini di grandezza classici dei microprocessori per tutta la loro vita diciamo e delle memorie integrate su silicio più recentemente si parla di giga scale of integration anche se è un nome che non gira particolarmente a volte si sente si chiama anche ULSI cioè ultra large scale of integration dove è qui per segnare il raggiungimento di un miliardo di transistori sul chip che in qualche modo altera ancora il modo di progettare quello che dovete avere in mente è che è evidente che mentre per la progettazione di un singolo amplificatore stiamo lì a parlare ore di come mettere due transistori per fare un certo amplificatore con un certo guadagno eccetera è evidente che le metodologie di progetto per microprocessori con così tanti transistori devono essere diverse da un certo punto di vista la logica digitale aiuta perché prima in pochi minuti abbiamo piazzato più di 100 transistori in un circuito sapendo esattamente dove ciascuno di essi stava sapendoli dimensionare tutti perché poi ciascuna porta logica sappiamo come si dimensiona quindi la logica digitale aiuta però chiaramente quando si arriva a 10 alla 9 la complessità è tale per cui oltre a servire squadre di centinaia di persone per progettare un singolo chip anche la metodologia di progetto deve essere significativamente diversa allora io faccio un attimo ne vediamo altri di circuiti di media scala di integrazione vedete che svolgono funzioni effettivamente abbastanza semplici dunque vediamo il demultiplexer che si chiama anche demux in modo contratto demultiplexer che ha una funzione come vedremo abbastanza simile a quella del decoder viene bene spiegato subito dopo perché ha un ingresso l uscite dove l è un certo 2 alla n e n variabili di controllo dunque in linguaggio naturale qual è il funzionamento una sola uscita è attiva e riproduce l'ingresso tutte le altre sono non attive l'uscita attiva viene scelta dalla configurazione dalla combinazione delle variabili di controllo quindi una sola uscita riproduce l'ingresso e viene selezionata in base alla configurazione delle variabili di controllo tutte le altre uscite sono non attive ora se io provo se provate a pensare a come funziona in pratica è uguale al decoder abbiamo soltanto scambiato di posto le variabili di controllo con l'ingresso nel decoder avevamo n ingressi e una variabile di controllo che abbiamo soltanto scambiato di ruolo è uguale al decoder vedete svolge un'altra funzione logica ma è uguale al decoder per farvelo notare disegno un attimo il decoder vedete il decoder che cosa ho ho uno strobe e poi gli ingressi sono a0 an-1 e le uscite sono y0 yl-1 se torniamo un attimo indietro al decoder guardiamo questo allora immaginate per un attimo che s sia l'ingresso e che a1 a0 siano le variabili di controllo allora vedete cos'è che succede che praticamente c'è una variabile di controllo scusate c'è una uscita che riproduce la s per esempio e questa uscita è ben selezionata dalle variabili di controllo per esempio quando a1 e a0 sono 0,1 selezionano l'uscita l1 infatti vedete che l'uscita l1 è 1 quando s è uguale a 1 ed è 0 quando s è uguale a 0 e tutte le altre uscite sono a 0 cioè sono non attive quindi è esattamente lo stesso circuito solo ho cambiato il significato delle variabili d'accordo? quindi in pratica è come se sostituissi al posto degli ingressi mettessi s e le a n-1 a0 fossero le variabili di controllo le uscite sono sempre le stesse il demux si indica così come circuito in generale perché che cosa qual è il compito del demultiplexer in pratica porta l'ingresso su una sola delle uscite smista d'accordo? un demultiplexer smista l'ingresso su una uscita e basta decido da quale uscita esce l'ingresso in base alla combinazione delle variabili di controllo quindi insomma essendo lo stesso circuito dal punto di vista della realizzazione in termini di porte logiche l'abbiamo già visto è lo stesso del decoder quindi anche l'occupazione di 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 necessario è lo stesso del decoder quindi come ordine di grandezza rimane un circuito a meglio a scala di integrazione esiste anche l'opposto del multiplexer del demultiplexer funzionalmente che è il multiplexer vediamolo un attimo il multiplexer che si indica anche con la sigla mux a invece multiplexer a dunque l uguale alla 2 alla n uscite u no scusa ingressi non uscite il demuxer l ingressi e l'uscite questo è l'ingressi una uscita e n variabili di controllo quindi per semplicità facciamo un disegno di un multiplexer per l uguale a 4 quindi avremo x con 0 x con 1 x con 2 e x con 3 ingressi due variabili di controllo e una uscita quindi quindi questo è l uguale a 4 no l uguale a 4 e n uguale a 2 anche qui qual è il significato del multiplexer detto in linguaggio comune in pratica le variabili di controllo selezionano quale degli ingressi finisce in uscita d'accordo uno solo degli ingressi viene riprodotto in uscita quindi questo che cosa vuol dire se voglio scrivere facilmente una tabella di verità come dire semplificata del multiplexer la posso scrivere in modo abbastanza semplice vedete mi conviene scrivere in modo un pochino più compatto perché se volessi usare come nella tabella di verità tutti e 6 gli ingressi cioè i 4 ingressi più le variabili di controllo avrei 2 alla 6 combinazioni possibili che fa 64 e chiaramente sulla lavagna non ci stanno quindi scrivo in modo un pochino più compatto ed è così quando le variabili di controllo fanno 0 0 l'ingresso che viene riportato in uscita è x con 0 quindi y uguale a x con 0 quando invece la combinazione degli ingressi è 0 1 l'uscita riproduce x1 quando le variabili di controllo fanno 1 0 l'uscita riproduce x2 quando le variabili di controllo fanno 1 1 l'uscita riproduce x3 va bene quindi io posso una volta scritto così scrivere la funzione logica chiaramente mi viene bene scritta come somma di prodotti perché perché a 1 a 0 queste 4 combinazioni sono tutte differenti quindi io posso dire per esempio quando y posso scrivere fascimente in questo modo y uguale a 1 a 0 vedete a 1 negato a 0 negato questo pezzo qui è vero soltanto quando a 1 e a 0 sono entrambi a 0 e quindi porto x con 0 più il secondo riconosco il secondo pezzo a 1 negato a 0 x con 1 più a 1 a 0 negato x con 2 più a 1 a 0 x con 3 allora com'è che funziona questa espressione in pratica la parte di prodotto a 1 a 0 negato o meno fa sì che solo una delle 4 sia uguale a 1 sia vera per una certa configurazione degli ingressi quindi se per esempio a 1 è uguale a u a 0 e a 0 uguale a 0 avrò che il primo il primo prodotto è 1 quindi y uguale a x con 0 più tutti i 0 quindi avrò y uguale a x con 0 se invece a 1 e a 0 sono a 1 tutti i prodotti sono nulli tranne l'ultimo che è uguale a x con 3 quindi y in quel caso è uguale a x con 3 e così via e per ovvi motivi ora io non faccio la mappa di Carnot di questo perché vi immaginate come viene la mappa di Carnot di questo viene abbastanza grande però quei termini sono diciamo di quei temi uno solo può essere a 1 tutti gli altri sono sempre a 0 quindi quando vado a fare la valutazione dei se faccio la mappa di Carnot e vedo gli implicanti mi vengono completamente separati e che vuol dire che non riesco a semplificare e se non ci credete provate però si capisce abbastanza bene ciascuno di quei temi mi dà una zona di uni separata dalle altre e quindi non riesco a semplificare ulteriormente quindi ho una somma di prodotti chiaramente so come fare una porta logica con una somma di prodotti io posso come faccio per esempio prendo a 1 e a 0 vedete ho bisogno di a 1 e a 0 sia normali sia negati e quindi qui per esempio li nego anche per a 0 vale lo stesso discorso mi servono sia normali sia negati e poi ho bisogno di degli altri ingressi e quindi qui che cosa faccio faccio la somma di prodotti quindi prima la NAND che riconosce il primo termine quindi devo riconoscere a 1 negato a 0 negato e qui x con 0 quindi qui metto x con 0 poi la seconda NAND che riconosce a 1 negato a 0 e x con 1 l'altro ingresso poi ho bisogno di una terza NAND che riconosce a con 1 a con 0 negato e x con 2 e poi ho bisogno di una quarta NAND che riconosce a con 1 a con 0 e x con 3 e tutte queste le devo portare a una somma quindi a una NOR a una OR a 4 ingressi da cui esce y vedete questo è fatto quindi ho avuto bisogno di 4 NAND a 3 ingressi più una OR a 4 ingressi ovviamente per le cose che ci siamo già detti sulle porte logiche posso fare con NAND di NAND quindi vedete posso sostituire a tutte le porte delle NAND con lo stesso numero di ingressi come sapete insomma i prodotti è una NAND di NAND semplicemente sostituendo porta a porta ok senza neanche cambiare la configurazione del circuito quindi mi basterebbe avere 4 NAND a 3 ingressi più una NAND a 4 ingressi perché mi servono 4 NAND mi servono 4 NAND perché me ne serve una per ciascun ingresso quindi in pratica le NAND devono essere L va bene il numero di ingressi per ogni NAND deve essere uguale al numero di bit di controllo più 1 quindi questi devono essere N più 1 e questo qui deve essere L quindi in pratica ho L NAND a 3 N più 1 a N più 1 ingressi più una NAND a L ingressi questo è lo segno perché vedrete che dunque MUX con realizzato con porte complesse con configurazione porta logica complessa scriviamo per bene ho bisogno ho detto di L NAND a N più 1 ingressi più una NAND a L ingressi numero transistori quanti sono va bene una L per una NAND a N più 1 ingressi ha bisogno di 2 N più 1 transistori N più 1 per la pull up N più 1 per la pull down la NAND a L ingressi ha bisogno di 2 L transistori quindi qui mi viene 2 N L più 4 L se volete 2 per N più 2 L detto bene dire di sì quindi nel caso precedente L uguale 4 N uguale 2 mi porta a un numero di transistori pare a 2 per 4 8 per 4 32 transistori in realtà devo aggiungere anche un'altra cosa sugli appunti c'è anche un'altra cosa che ci sono questi due inverter sono anche N inverter qui ho più N inverter quindi qui devo mettere anche più 2N qui devo mettere anche più 2N chiaramente questi 2N contano poco in questo caso mi viene 36 invece che 32 anche qui voglio far notare che facilmente si aumenta perché se volessi fare invece un multiplexer da 16 a 1 avrei bisogno di 16 ingressi e a questo punto per fare 16 ingressi mi serve un 4 bit di controllo e vedete il numero subito comincia a salire perché in pratica la cosa che comanda è questo prodotto N per L quindi qui mi verrebbe numero di transistori pari a 2 per 8 per 16 vedete subito i numeri crescono più 8 16 per 8 fa 128 per 2 fa 256 156 per detto bene 16 per 8 fa 128 per 2 256 più 8 264 si va subito sull'ordine centinaio ecco in questi circuiti diciamo viene bene a volte utilizzare non direttamente le porte logiche complesse perché le porte logiche complesse hanno come difetto il fatto che il numero di transistori cresce molto rapidamente per esempio i MUX in particolare si fanno molto bene e tipicamente si fanno sempre con passgate è abbastanza facile fare un MUX con passgate si presta molto facilmente e come vediamo tra un attimo anche il numero di transistori che servono viene ridotto in modo significativo ok quindi vediamo un po' come si fa un MUX con passgate vediamo quello sempre vediamo quello che abbiamo visto prima lo stesso esempio MUX a passgate prendiamo l'esempio di prima per capire come funziona cioè L uguale a 4 e N uguale a 2 allora com'è che si fa? beh in pratica si fa così si fa in modo che ogni piano di passgate dimezzi il numero di ingressi che passano quindi io qui ho i 4 ingressi e ogni piano di passgate dimezza il numero che passano quindi qui dimezzando due volte arrivo a 1 ho 2 variabili di controllo e le uso 1 per un dimezzamento e un'altra per l'altro per esempio A con 0 A con 0 mi può determinare chiaramente mi determina metà degli ingressi e metà degli ingressi sono selezionati da A con 0 uguale a 1 e metà degli ingressi sono selezionati da A con 0 uguale a 0 per esempio X con 0 deve passare in uscita quando A con 0 è uguale a 0 e A con 1 è uguale a 0 quindi primo passaggio vediamo quello determinato A con 0 io qui metto una passgate che viene comandata da A con 0 negato quindi qui passa A con 0 negato sotto X con 1 deve passare quando A con 0 è uguale a 1 quindi questa la faccio controllare da A con 0 invece che A con 0 negato vedete poi questi due li porto allo stesso nodo quindi cosa vuol dire? che in questo nodo mi trovo X con 0 se A con 0 è uguale a 0 oppure X con 1 se A con 0 è uguale a 1 quindi risolvo anche in questo modo il problema delle passgate che diciamo rischio di avere un nodo flottante in questo modo non ce l'ho mai flottante il nodo d'uscita viene portato a X con 0 oppure a X con 1 quindi a uno dei due ingressi stesso discorso faccio per le altre due gli altri due ingressi quindi X con 2 deve essere selezionato quando A con 0 è uguale a 0 e quindi ci porto questo e X con 3 deve essere selezionato quando A con 0 è uguale a 1 e quindi ci metto A con 0 e questi due li porto allo stesso nodo quindi sopra ho X con 0 oppure X con 1 e sotto ho X con 2 oppure X con 3 ora se vi ricordate la codifica in pratica i primi due passano se A con 1 è uguale a 0 i secondi due devono passare se A con 1 è uguale a 1 e quindi io qui faccio il secondo piano determinato da A con 1 quindi questo qui passa quando A con 1 è uguale a 0 questo sotto invece passa quando A con 1 è uguale a 1 e questa è la Y quindi c'è un meccanismo tipo torneo abbiamo semifinali finale passa in sostanza i bit meno significativi definiscono determinano i primi dimezzamenti e poi il bit più significativo determina l'ultimo perché questo funziona meglio? perché vedete in questo caso alla fine ho 6 pass gate che vuol dire 12 transistori vedete sono 12 transistori invece di 36 in generale quindi invece di 36 a questo punto risparmio di un fattore 3 nel numero di transistori che chiaramente ora non è tantissimo perché non sono tanti i transistori ma in generale può essere importante in generale è facile anche trovare la regola generale che cosa succede? in pratica quanti transistori ho bisogno? io ne ho bisogno di ho due transistori per ogni pass gate e ho un numero di pass gate che è pari a 2 più 4 più 8 e così via a seconda di quanti variabili di controllo ho quindi praticamente ho 2 alla I transistori con I che va da 1 al numero di da 1 fino a N se ho nel nostro come nel nostro caso N uguale a 2 ho 2 più 4 6 per 2 12 se avessi avuto N uguale a 3 avrei avuto anche altre 8 pass gate quindi mi si somma considerando come il numero di piani il numero di variabili di controllo che ho per esempio nel caso dell'esempio che facevo prima vedete N uguale a 4 quindi L uguale a 16 con la porta logica complessa mi venivano 264 transistori che sono tanti in questo modo facciamo l'esempio N uguale a 4 mi verrebbe 2 che moltiplica 2 più 4 più 8 più 16 pass gate uguale quanto fa ho 14 più 16 30 per 2 fa 60 transistori e stavolta siamo a meno di un quarto del caso precedente quindi vedete in generale come dire scala meglio la soluzione a pass gate che vuol dire che se ho più ingressi ho maggiore vantaggio che diciamo il problema come vi dicevo il problema tipico delle porte logiche complesse che come aumento il numero di ingressi facilmente la cosa come dire il numero di transistori che sono richiesti aumenta rapidamente va bene oh voglio voglio segnalarvi soltanto una cosa giusto per completezza non è tutto rose e fiori no diciamo mux a pass gate si usa perché nella pratica è molto conveniente questa riduzione del numero di transistori cos'è che si paga si paga il fatto che gli ingressi devono direttamente alimentare le uscite quindi ripeto questa è una cosa complicata perché a questo punto gli ingressi devono essere capaci di spingere corrente con la velocità adeguata se c'è da caricare una capacità ad uscita come sempre succede in logica Gmos tutte le uscite di fatto caricano e scaricano la capacità a questo punto la corrente di carica e scarica della capacità deve venire dall'ingresso anche se la capacità è grande quindi bisogna dimensionare bene il resto non è automaticamente più vantaggioso non basta guardare il numero di transistori ripeto nel caso particolare dei multiplex il vantaggio del numero di transistori ridotto è talmente alto che poi si finisce sempre per per adoperare va bene un altro ne guardiamo ancora un altro circuiti diciamo media scala di integrazione è il cosiddetto encoder vedete per il momento tutti questi circuiti che abbiamo visto svolgono all'incirca sempre la funzione di selezione non selezionano un ingresso selezionano un'uscita però diciamo una funzione importante per i circuiti logici ma in generale ovviamente in generale anche per gli apparati di comunicazione da dei multiplex a dei multiplex nasce addirittura prima come concetto generale ben prima della della logica digitale nasce nell'ambito delle telecomunicazioni quando si come dire multiplexano più segnali facendo una modulazione in frequenza per esempio allora encoder in italiano sarebbe codificatore e svolge una funzione praticamente opposta a quella dell'encoder cioè che cosa fa il scusate opposta a quella del decoder che cosa fa l'encoder in generale ha solo un ingresso attivo deve funzionare con solo un ingresso attivo e in uscita fornisce un numero di bit che codificano l'ingresso attivo quindi che rappresentano l'ingresso attivo in generale si usa accoppiato al decoder cioè prima si codifica l'ingresso attivo col decoder si decodifica qui per esempio avrò l ingressi sono il numero di ingressi che voglio codificare n uscite che sono il numero di bit su cui codifico l'ingresso in generale se voglio riuscire a codificare almeno l ingressi bisogna che 2 alla n sia maggiore uguale a l se voglio fare per esempio una codifica binaria dunque il meccanismo di funzionamento è questo come dicevo in ogni istante in ogni istante c'è solo un ingresso attivo l'uscita corrispondente è la codifica dell'ingresso attivo quindi è una stringa binaria che rappresenta il nome il numero d'ordine quello che è dell'ingresso attivo può essere banalmente il numero binario che rappresenta il numero d'ordine dell'ingresso attivo facciamo un esempio dal solito nell'esempio uso un numero abbastanza piccolo di bit perché se no il disegno non mi viene supponiamo di avere l ingressi e l uguale a 4 ingressi quindi mi bastano l uguale a 2 uscite quindi che cosa avrò che cosa avrò in ingresso avrò ad esempio come ingressi a 0 a 1 a 2 e a 3 quindi sono 4 ingressi e in uscita avrò y 1 e y 0 la tabella di verità è piuttosto semplice io anche qui la scrivo in modo più compatto invece di mettere 2 alla 4 quindi 2 alla 4 fa 16 configurazioni di ingresso possibili che poi nella lavagna non ci stanno scrivo qual è l'ingresso attivo anche perché non tutte le configurazioni di ingresso possono essere utilizzate soltanto una deve essere utilizzata va bene cioè soltanto un sottinsieme quello in cui c'è solo un ingresso attivo per esempio se attivo vuol dire 1 possono essere utilizzate quelle soltanto che hanno un ingresso attivo e tutti gli altri a 0 che sono in questo caso non 16 ma soltanto 4 quindi se l'ingresso attivo è A con 0 l'uscita per esempio posso fare posso fare in modo che sia la codifica di 0 quindi 0 0 se l'ingresso attivo è A con 1 posso avere in uscita 0 1 se l'ingresso attivo è A con 2 posso avere in uscita 1 0 se è A con 3 posso scegliere di avere in uscita 1 1 chiaramente posso avere una rappresentazione anche diversa non è questo importante d'accordo? quindi chiaro l'encoder implica una limitazione che chi usa l'encoder deve sapere che non tutti gli ingressi sono possibili sono accettabili e quindi l'encoder funziona correttamente solo se l'ingresso attivo l'ingresso prevede solo un bit attivo e tutti gli altri non quindi questa è la descrizione da come si vede è una rete combinatoria un circuito senza memoria la funzione l'uscita è funzione del valore degli ingressi in quell'istante quindi chiaramente si può realizzare a porte logiche complesse diciamo è relativamente facile farlo una volta che si scrive per esteso la tabella di vita in questo caso viene decentemente per questo esempio piccolo viene decentemente facile anche come dire rappresentare per ognuna delle uscite la mappa di Carnot e quindi di ricavare gli implicanti e sintetizzare la porta logica complessa insomma più o meno ormai abbiamo visto come si fa c'è una soluzione un pochino diversa che si adotta più comunemente che è quella di usare una una maglia di dispositivi non lineari vi faccio vedere il classico caso è quello dell'encoder fatto a DOD in code RADIOD è fatto così abbiamo i quattro ingressi e le uscite le uscite sono collegate in questo modo hanno una resistenza cosiddetta di pull down che porta il valore dell'uscita a massa e poi hanno un diodo di pull up qual è il meccanismo il meccanismo è questo vedete in pratica come funziona l'uscita a riposo va a zero va bene perché c'è questo resistenza di pull down quando l'ingresso è a con zero quando supponiamo che attivo voglia dire alto anche questo è una cosa che va decisa può essere vero anche il contrario basta deciderlo è una convenzione attivo uguale a alto a questo punto quando a zero è alto io voglio che y1 e y0 siano a zero zero come ho detto prima quindi non faccio niente tanto vanno a zero quando a con uno è alto invece io voglio che y0 sia alto e y1 sia basso allora che cosa faccio qui prolungo questa colonna questi incroci non sono dei contatti ci faccio il pallino quando voglio il contatto di qui io metto un diodo in questa posizione perché il diodo in questa posizione perché quando a con uno va alto il diodo conduce e porta y0 alto come dicevo il diodo fa da pull up quando a con due invece è alto bisogna che y1 sia alto e y0 sia basso quindi metto il diodo non su y0 ma su y1 quando invece a con tre è alto voglio che sia y1 sia y0 siano alti e quindi lo metto in questo modo vedete in pratica questo che cosa vuol dire vuol dire che la codifica viene decisa dalla posizione dei diodi infatti se voi immaginate guardate questa griglia questa griglia è molto somigliante alla tabella di verità perché vedete nella tabella di verità avevo quattro righe e due colonne per le uscite ok e se voi guardate quando non c'è il diodo immaginate lo 0 e quando c'è il diodo immaginate l'1 vedete viene 00 01 01 01 01 che è esattamente questo pezzettino qua ops questo pezzo qua della tabella di verità in pratica ho mappato 1 a 1 la tabella di verità in questo piano perché ovviamente quando non c'è il diodo in uscita mi trovo 0 quando c'è il diodo in uscita quando è attiva quella riga mi trovo mi trovo un 1 o chiaramente questo mi permette di fare qualunque tipo di codifica perché posso scegliere una codifica come voglio complementa 1 oppure qualunque altra cosa a seconda di dove posizione diodi posso inventarmi la codifica che voglio d'accordo è completamente generica allora per motivi più o meno storici e di uso queste righe le righe si chiamano anche wordline mentre invece le colonne si chiamano anche bitline ora questo lo capirete tra un attimo è motivo storico semplicemente il fatto che come dire l'applicazione principe degli encoder sono le memorie per cui nelle memorie tradizionalmente ci sono i bit di uscita e ci sono vari word all'incirca intanto riusciamo a vedere lo stesso oggi ciascuna riga rappresenta una word di memoria e i bit rappresentano uscita corrispondente capiremo un attimo meglio perché la cosa che volevo farvi notare è questa che è importante che qui ci sia un diodo perché come ve l'ho raccontato adesso se anche non ci fosse un diodo ma ci fosse semplicemente un contatto una resistenza un cortocircuito funzionerebbe non vi ho evidenziato per quale motivo ci vuole veramente un diodo il motivo per cui ci vuole un diodo è chiaro è questo che quando per esempio è alta a2 vedete a2 va alta si porta su y1 perché il diodo conduce quando a2 va alto però a questo punto siccome c'è il diodo per esempio a3 rimane basso perché la corrente non può andare nell'altra direzione e alzare a3 va bene se invece del diodo ci avessi messo un cortocircuito o una resistenza invece avrebbe avrebbe avuto diciamo un effetto completamente diverso perché avrei avuto questa situazione se avessi alzato a2 si sarebbe alzato di tensione a2 avrei alzato la tensione di y1 e alzando y1 avrei alzato anche a3 alzando a3 avrei alzato anche y0 e quindi tutto poi è chiaro che non funziona così avrei sempre uscite tutte alte il punto principale l'importanza del diodo è che mi assicura che quando attiva una wordline le altre siano tutte basse perché da una wordline non posso attivare le altre questo è fondamentale l'encoder si fanno a diodi si fanno anche a bipolari e si fanno anche a mosfet il meccanismo è sempre lo stesso vediamo prima l'encoder fatto a bipolari e poi quello fatto a mosfet e quello fatto a bipolari deve avere di nuovo 4 wordline ciascuno una per ogni ingresso e poi due bitline per le due uscite allora per i bipolari in realtà la cosa funziona pari pari a quella dei diodi con la differenza che ecco riesco ad avere un pochino più di corrente in uscita e una configurazione un po' più compatta allora tipicamente si usano dei bipolari multi emettitore fatti in questo modo in pratica vedete io va bene per esempio per a1 come collego il bipolare deve essere quando a1 deve essere alto l'uscita deve essere alta e quindi collego il bipolare in questo modo vedete collego la base alla wordline l'emettitore alla bitline e il collettore all'alimentazione perché funziona così perché quando a1 è alto il bipolare conduce e quindi l'emettitore sale perché tra la base e l'emettitore comunque non c'è più di v gamma va bene la cosa interessante il motivo per cui poi il circuito l'encodere bipolare è più rapido è perché nel diodo cosa succede che tutta la corrente che viene fornita in uscita deve venire dalla wordline quando c'è il diodo perché il collegamento è quello quando c'è invece il bipolare la corrente della bitline è una corrente che viene dall'emettitore che è uguale la corrente collettore quindi la corrente viene direttamente dall'alimentazione e quindi non deve essere fornita tutta dall'ingresso l'ingresso fornisce solo la corrente di base che come sapete è una frazione di quella di dimettitore frazione piccolina d'accordo per a2 vale lo stesso discorso deve essere alto y1 e quindi il collegamento che faccio è così per a3 devono essere alti tutti e due quindi potrei mettere due transistori così in generale se ne mette e qui arriva quello che vi stavo dicendo un transistore invece si mette due transistori con la base in parallelo e il collettore in parallelo si mette un transistore multiemettitore che si comporta nello stesso modo ma è più compatto vedete è un transistore con due emettitori e questo per un po' di tempo è stato abbastanza classico ora è andato un po' in disuso ma per esempio se faccio il bipolare ricordate come si fa io devo avere una regione n larga dove metto il collettore poi dentro c'è una regione più piccola di tipo p dove metto la base e dentro la base e dentro ancora devo realizzare l'emettitore allora semplicemente io qua realizzo due pozzetti diversi di emettitore nella base un emettitore 1 e un altro emettitore e 2 in pratica siccome come vi ho detto cioè diverse volte il transistore intrinseco è soltanto quel tassellino interno vediamo un po' se trovo il colore giusto per rappresentarlo il transistore intrinseco è soltanto questo questo transistore multiemettitore è fatto da in pratica si comporta come due transistori che hanno la base a comune e il collettore a comune che è quello che mi serve in questo caso quindi di solito si usa in questi casi un bipolare multiemettitore e il simbolo è questo qui in pratica si vede un transistore con più di un emettitore e insomma classicamente sono fatti i transistori con 8 emettitori per avere 8 bit in uscita è abbastanza semplice come realizzazione il meccanismo è lo stesso dove ho l'emettitore in collegamento con la bitline ho un 1 dove non c'è l'emettitore in collegamento con la bitline ho 1.0 per concludere posso fare anche un encoder a mosfet che mi viene abbastanza facile di nuovo devo mettere le 4 wordline a 0 a 1 a 2 e a 3 il mosfet viene bene viene meglio tradizionalmente come pull down mosfet a canale n quindi io metto una resistenza come pull up e poi metterò il transistore come pull down quindi qui cambiano le cose cosa vuol dire che quando il transistore è attivo l'uscita va a 0 non va a 1 quindi sarà complementare rispetto al caso precedente quindi per esempio cosa dovrò fare queste sono le bitline dovrò fare in modo che per esempio quando ha con 0 uguale a 1 i due le due uscite le due bitline vadano a 0 per esempio lo posso fare così vedete metto il source a massa il drain sulla bitline e il gate collegato alla wordline quando la wordline è alta il transistore mosfet conduce e quindi il drain va a la tensione source va a 0 è a basso quindi vedete è praticamente uguale al caso precedente soltanto che è completamente opposto cioè stavolta quando voglio lo 0 devo mettere il transistore qui no qui lo devo mettere invece di qua e quando invece attivo a 3 siccome voglio che l'uscita sia tutti uni non devo far niente tanto ci vado a sola ho questa carrellata che vi ho fatto per gli encoder in pratica rappresenta anche storicamente quello che è successo nel senso che diciamo che gli encoder sono sono stati all'inizio realizzati a DOD poi a bipolari insomma a questo punto praticamente sono tutti a transistor in MOSFET quel meccanismo è lo stesso cambia soltanto il dispositivo che fa collegamento vedete ancora una volta in tutti i casi bisogna fare in modo che il dispositivo sia non lineare perché quando attiva una wordline deve rimanere attiva solo quella e non devono essere diciamo per qualche motivo indesiderato attivate anche altre wordline va bene allora una volta che abbiamo visto questi circuiti si può vedere la prima memoria il primo tipo di memoria realizzato una memoria per modo di dire però comunque una memoria una memoria di sola lettura la cosiddetta ROM perché in pratica la ROM è una memoria fatta da un decoder e un encoder ROM sta per read only memory quindi è una memoria di sola lettura che non si può modificare in pratica viene costruita cioè in senso stretto la ROM è una memoria che viene scritta nel momento in cui viene fabbricata e poi non può essere più modificata d'accordo? come è fatta? abbiamo se abbiamo n ingressi quindi n word bene da mbit anzi scusate se abbiamo due alla n word da mbit da mbit quindi n bit di ingresso d'accordo? c'è bisogno di indirizzo si chiama meglio di indirizzo n bit di indirizzo ciascun bit indirizza una di due alla n word ogni word contiene mbit va bene? come si fa? è molto semplice perché devo prima mettere ho bisogno semplicemente mettere un decoder da n a due alla n perché per una configurazione di bit di indirizzo mi determina una sola wordline attiva e poi ho bisogno di un encoder che ha in ingresso due alla n wordline e mi da in uscita m che ha m uscite quindi m bit di uscita va bene? in pratica ripeto ho qua il decoder il decoder deve avere n ingressi quindi questi sono n ingressi n ingressi gli ingressi e il decoder sono i bit di indirizzo n bit di indirizzo poi avrò due alla n word che sono le uscite del decoder va bene e poi qui dovrò avere l'encoder che per una che avrà soltanto una word attiva e a seconda della word attiva avrò la configurazione di delle m uscite quindi le uscite corrispondono al contenuto della word d'accordo? quindi con un decoder da n a 2 alla n e un encoder da 2 alla n a m ottengo una memoria di 2 alla n word da m bit quindi totale 2 alla n per m bit va bene? vedete bene dov'è che vi torna il ragionamento dov'è il contenuto della memoria? il contenuto della memoria è praticamente nell'encoder l'informazione è scritta dentro l'encoder d'accordo? se faccio l'encoder a diodi per esempio per ogni word line il contenuto corrisponde alla posizione dei diodi se voglio il bit della word line a 1 ci metto un diodo se voglio il bit della word line a 0 non ci metto il diodo per questo viene scritta la memoria in fabbrica perché a seconda di dove metto il diodo lì ci va l'1 o lo 0 e poi chiaramente non lo sposto più quindi questa è la rom capite bene come si fa facilmente a salire col numero di transistori richiesti tipicamente se voglio un kilobit di rom avrò bisogno di all'incirca un migliaio di transistori sul piano dell'encoder più tutti quelli che mi servono per il decoder va bene quindi facilmente si va sopra i mille diciamo chiaramente mi trovo in una situazione del genere la memoria diciamo in sola scrittura è fatta così chiaramente ci sono tanti tipi di memoria diversa poi li vediamo nelle prossime ore ma questa è senz'altro più semplice notate bene che sia il decoder sia l'encoder sono due reti combinatorie e le ho messe insieme e ho ottenuto ovviamente un'altra rete combinatoria ma perché questo perché chiaramente la rom è una rete combinatoria è chiaro il concetto perché la rom è una rete combinatoria perché voi se la raccontate come memoria voi mandate in ingresso un indirizzo e in uscita leggete i bit contenuti in quell'indirizzo di fatto questa è una rete combinatoria perché i bit di indirizzo sono gli ingressi della rete combinatoria le uscite sono le uscite che corrispondono a quella configurazione di ingressi quindi una rom non è nient'altro che una rete combinatoria d'accordo e infatti diciamo spesso tante reti combinatorie in un sistema digitale si realizzano più comodamente con una rom piuttosto che con le porte logiche perché tanto comunque di quello si sta parlando se non è una funzione che devo svolgere molto rapidamente per il calcolo ma devo chiamare ogni tanto mi conviene spesso scriverla come una rom anche tante funzioni normali di una calcolatrice tipicamente sono implementate dentro una rom il seno e il coseno sono tipicamente implementati dentro una rom infilo la configurazione che rappresenta l'argomento del seno in uscita mi esce una successione di bit che rappresenta il valore quella è una rete combinatoria e di solito si scrive come una rom è più facile da scrivere piuttosto che sintetizzare tutte le porte logiche l'altra cosa che vi volevo dire è che dal punto di vista della fabbricazione è relativamente facile una porta rom perché è molto c'è una rom rispetto a una rete a una porta logica complessa per fare una rete combinatoria per quale motivo perché nella pratica vedete è molto regolare tra una rom e l'altra diciamo tra una rom a parità di numero di ingressi e di uscite va bene la differenza tra una rom e un'altra può essere il contenuto quindi il significato della rom che cosa esce che cosa c'è scritto dentro ciascuna word di fatto quindi ogni rom deve essere fabbricata separatamente perché ha una configurazione circuitale diversa però il circuito è molto regolare per cui per esempio in generale guardate l'encoder a mosfet una volta scelta la taglia della rom quindi il numero di ingressi e il numero di uscite veniva fabbricata più o meno in questo modo veniva fatta tutto uguale il transistore si metteva a tutti gli incroci e l'unica cosa che cambiava è che si collegava o non si collegava al momento dove ci voleva oppure non ci voleva quindi il circuito cambiava ma nella pratica nella fabbricazione quello che cambiava era solo l'ultimo livello di maschera dove si decideva il collegamento dei metalli e si collegava o non collegava e mosfet a seconda che si voleva questo consentiva di semplificare un po' la fabbricazione e di renderla quasi quasi automatica no cambiava soltanto l'ultimo passo era comunque costoso perché andava fatto per ogni memoria un chip apposta insomma però il chip apposta in realtà richiedeva soltanto la modifica di pochi punti allora chiaramente questo è il concetto base della ROM non è come vengono fatte le ROM adesso cosa cambia da questo concetto di ROM a come vengono fatte le ROM adesso ci sono due cose a tenere presenti un aspetto è l'indirizzamento e un aspetto è la programmabilità perché le ROM di adesso sono tutte programmabili però io direi facciamo una pausa di una decina di minuti e poi riprendo questo concetto di un aspetto